Siamo qui a San Salvo nella rinnovata pista ciclabile Pietro Mennea. Al mio fianco abbiamo Fabrizio Lauretani, la tuta dice tutto, è uno dei rappresentanti dell'Italia Master nei campionati di atletica, non solo quelli italiani, non solo quelli europei, ma due mesi fa hai raccolto uno splendido risultato a Göteborg in Svezia, sei andato vicino a loro nei 400 ostacoli, ma sei tornato a San Salvo con una splendida medaglia d'argento. Prima di raccontare il tuo trascorso, partiamo proprio da Göteborg. Quanto è stato emozionante conquistare quell'argento? Beh sì, è stato quasi un sogno, perché uno raggiunge un risultato che forse immaginava da giovane, e invece l'ho raggiunto, l'ho raggiunto da Master, ha una valenza un po' diversa, però comunque ha una gran valenza. Quello che posso dire quindi è di non smettere di sognare, perché uno da ragazzo magari sogna determinati risultati, non li raggiunge e magari invece poi andando avanti con l'età può raggiungere dei risultati molto simili, quindi la medaglia d'argento è stata una cosa sensazionale e anche un po' inaspettata, perché io ho iniziato quasi per gioco quattro anni fa sullo stimolo del mio vecchio allenatore che diceva tu puoi essere uno dei più forti al mondo nella tua gara, nei 400 ostacoli. Io inizialmente ovviamente non gli credevo e ci sono andato invece molto vicino. Provando a riavvolgere il nastro a quando eri un ragazzo, ce l'hai raccontato prima a telecamere spenti, avevi 17 anni, e appunto il tuo coach, il tuo mentore Leonardo Carducci ti diceva che potevi essere uno degli astri nascenti non solo dell'atletica italiana ma anche mondiale, avevi i tempi da Olimpiade, ci hai raccontato di un terribile incidente in motorino che ti ha fermato per tanto tempo un brutto infortunio al femore. Da lì che cosa è cambiato nella vita sportiva di Fabrizio? Ma allora l'evento è stato ovviamente molto molto brutto, lì fondamentalmente la mia carriera diciamo da giovane è finita, però quello che bisogna insomma dire è che nella vita poi ci sono delle cose che si compensano, nel senso poter poi a 40 anni riiniziare una carriera sportiva è una cosa secondo me fantastica, è uno stimolo anche per tutti gli sportivi, gli atleti che magari arrivano a 30 anni e smettono, insomma è bello fare sport anche da adulti e non solo a livello fisico, è bello anche sotto il punto di vista secondo me psicologico perché si viene a contatto con tantissime persone eccezionali, ne potrei nominare mille, ne vorrei nominare almeno quattro che sono i componenti della staffetta che l'anno scorso diciamo mi ha permesso di arrivare secondo in Polonia ai 400, scusi, nella 4x200 mix che sono la Serena Caravelli, Silvia Di Domenico e il mio fratello ormai lo chiamo così perché ci sentiamo molto spesso durante tutto l'anno che è Max Vidale e come loro ho conosciuto tantissime persone secondo me eccezionali anche qui a Göteborg dove ci siamo incontrati e abbiamo vissuto insieme diciamo 10 giorni è emozionante fare lo sport anche per questo e questo deve essere un input per tutti anche per le altre persone diciamo master che si avvicinano allo sport ti sei riavvicinato al tuo sport ce l'hai detto prima quasi per gioco quattro anni fa qualche mese prima che tutto si fermasse per colpa del covid dalle corsette in spiaggia qui a San Salvo Marina poi piano piano chi ti osservava chi ti leggeva nei tuoi diari quotidiani che leggiamo anche noi su Facebook ti ha detto perché non provi a ripartire è stata quella la nuova fiammella che si è riaccesa sì sì è stato sicuramente l'input del mio allenatore che ha sempre chieduto in me e quindi mi ha detto perché non provi e poi anche sì insomma la gente che leggeva i miei post che erano un gioco inizialmente e adesso sono diventati diciamo un diario perché io così lo interpreto e che mi diceva è bello quello che fai perché non provi a fare diciamo qualche gara io inizialmente quando il mio primo obiettivo era quello di fare un 400 e già fare un 400 stavoli pensavo fosse un sogno poi da lì diciamo siamo arrivati alla medaglia insomma e a quello che è stato l'ultimo anno che secondo me è quasi un po' irripetibile anche perché il tuo ultimo anno lo porti ben stretto in mano qui vediamo le tante medaglie che hai conquistato tra Gotteborg i campionati italiani a Roma qui c'è di tutto qui c'è tanto sacrificio sì questo è sicuro nel senso devo ringraziare penso mia moglie perché ovviamente ha molta pazienza mi alleno praticamente una volta al giorno tolgo quindi un'ora al giorno alla famiglia mi alleno di notte a volte per cercare in qualche maniera di non togli troppo tempo e mi alleno in delle piste che sono diciamo tra virgolette non proprio delle piste ovvero questa è una bellissima pista che hanno fatto ora qua a San Salvo fortuna che c'è nell'ultimo anno è stata chiusa è una è una diciamo pista indoor all'aperto quindi non è proprio una pista regolare devo ringraziare Christian della pista di Montenero che ci ha permesso a me e a un'altra persona che devo ringraziare che è Miriam Di Iorio l'altra master diciamo della zona con cui mi alleno molto spesso insieme e che in qualche maniera mi permette anche di accedere alle strutture e poi c'è la pista di Vasto che diciamo è in asfalto quindi è un po' complicato poi c'è la pista ciclabile dove a volte vedono sfresciare un pazzo in mezzo alle salite abbiamo visto allenarti anche allo stadio Cannarsa di Termo diciamo che qui in zona le hai provate quasi tutte le strutture che possono aiutarti sì sì ovviamente io faccio una specialità non molto semplice ricordiamolo che tu sei faccio gli ostacoli e gli ostacoli è difficile anche trovarli nel senso che mi sono dovuti comprare e non tutte le piste hanno l'accesso agli ostacoli che forse non ce l'hanno neanche mentre nello stadio Cannarsa insomma un ragazzo Antonio Lorusso mi ha permesso di accedere e in qualche maniera mi ha diciamo tirato fuori gli ostacoli e per un mese un mesetto e mezzo sono riuscito anche a prepararli e anche per questo magari è venuto questo risultato a proposito di strutture alla fine sono la base fondante di successi che poi si raccolgono con il con il corso della carriera tanti ragazzi qui in zona nel nostro territorio sin da piccoli hanno fatto parecchi sacrifici dovendo studiare prima e poi correre su autobus o treni per raggiungere magari le strutture più attrezzate di Pescara forse magari nel corso della carriera sono un limite perché poi viene meno la voglia e si finisce tutto è stato così per te quando eri ragazzo ma sappiamo che è anche così per te adesso perché ci hai parlato dei tanti sacrifici che fai togliendo tempo alla famiglia e possiamo dire girovagando tra San Salvo, Montenero, Termoli e Vasto sì questo è un po' un peccato non tanto per noi diciamo master ma soprattutto per i giovani nel senso che va benissimo questa pista che hanno fatto a San Salvo ma ci vorrebbero delle piste, delle strutture diciamo adeguate cioè nel senso una pista è una pista fatta da 400 metri non da 200 metri non senza le chiodate non con l'asfalto cioè servirebbe una pista diciamo che serve per poter fare quel determinato sport che è l'atletica leggera secondo me è il più bello sport al mondo dove ovviamente se devi fare velocità devi mettere le chiodate dove se vuoi fare non lo so il salto con l'asta c'è bisogno del sacco con il salto con l'asta e dove se vuoi fare gli ostacoli c'è bisogno almeno di 10 ostacoli perché altrimenti è difficile diciamo poterli allenare è un peccato per i giovani perché ovviamente non ci sono giovani qua che fanno atletica leggera mentre è uno sport che secondo me per i giovani potrebbe essere anche un modo per poterli togliere dalle strade insomma è uno sport diverso rispetto al tra virgolette calcio però ecco serve ovviamente la struttura per poterlo fare se no diventa complicato e bisogna arrivare a Pescara anche più lontano hai parlato di strutture che servono hai parlato di sogni hai parlato di sacrifici quali possono essere gli altri input per spingere quei giovani ad intraprendere la carriera da atleta in questo mondo in il tuo mondo? beh sicuramente la passione ora negli ultimi anni l'atletica leggera penso che sta vivendo un momento d'oro perché? perché c'è stato Jacobs? perché ci sono stati i Tamberi? e negli ultimi due anni l'atletica leggera insomma è cresciuta tantissimo quindi che cosa ha portato questa? la passione la passione di vedere dei campioni però ecco è una passione anche che deve essere innata perché ovviamente è uno sport di tanto sacrificio e di tante fatiche insomma non dico che gli altri non lo siano ma bisogna proprio avere una gran passione per mettersi le scarpette chiudate e mettersi in pista sei folignate di nascita ti sei trasferito a Firenze da 12 anni hai messo i piedi qui a San Salvo insieme a tua moglie che è san salvese le tue figlie questa pista ti ha accolta come ti trovi in questa città? ma sì bene nel senso l'Abruzzo è una via di mezzo secondo me tra il paesino Rasiglia da dove vengo io e la città più grande che è Firenze Quindi l'Abruzzo San Salvo è una via di mezzo eccezionale dove uno può andare al mare, dove sembra di vivere una temperatura tropicale quasi tutto l'anno, dove ci sono delle bellissime montagne che io adoro e quindi si mangia benissimo, il costo della vita è accessibile. Quindi che dire, l'Abruzzo è bello e si può visitare in ogni momento. Abbiamo parlato dei giovani però torniamo ai tuoi master per altri anni, ti vedremo nella M45, hai salutato un 2024 ricchissimo di medaglie d'oro e d'argento però è arrivato il momento di guardare anche al 2025. Ci sono tre eventi clou che saranno i campionati italiani di Ancona e quelli europei di Madeira in Portogallo che sicuramente ti vedranno protagonisti. Ma c'è anche il sogno chiamato mondiale negli Stati Uniti d'America, rappresenti l'Italia ma sappiamo che dietro tutte queste manifestazioni ci sono parecchi sacrifici da parte vostra come atleti sia in pista ma anche a livello economico. Possiamo magari lanciare un assist a qualche rappresentante che voglia aiutarti in questo momento per darti la possibilità di esprimerti anche in America. Beh sì, per andare in America insomma c'è bisogno ovviamente di qualche sponsor, di qualcuno che dà una mano perché ovviamente noi master facciamo tutto economicamente in autonomia. Quindi non è semplice organizzare una gara, una manifestazione così lontano come può essere gli Stati Uniti. Quindi magari se ben venga un aiuto da parte di qualcuno per permettermi magari di poterli fare. Ora attualmente non lo so se riuscirò a fare i mondiali diciamo indoor, sicuramente sarà molto più accessibile l'europeo e i campioni italiani sempre infortuni permettendo perché ovviamente bisogna fare sempre i conti con l'età da master. Quindi lavorare in un certo modo per preservare anche il corpo insomma. Grazie a tutti.